SOS Migranti. La lunga estate degli sbarchi porterà più di 4.000 profughi in Veneto, dove già sono stati collocati 7.800 richiedenti asilo. Ma il grande rebus resta all'accoglienza, dove e come dare vitto e alloggio a chi approda in Italia. Due modelli a confronto, i grandi hub, oppure l'accoglienza diffusa in piccoli nuclei. Secondo alcuni è più semplice invece il controllo di piccoli nuclei, perché sono più facilmente coinvolgibili e quindi è più facile riuscire a averne la disponibilità, riuscire a capire come riuscire a controllare spostamenti o quant'altro. Sui grandi hub generano delle situazioni numericamente importanti, però per quanto mi riguarda sono più facilmente controllabili dalle forze di pulizia, delle forze di sicurezza, insomma, e quindi la scelta, dovunque cada, secondo me non cade in piedi in nessuno dei due casi. Pensieri e parole di Davide Dorantani, il sindaco di Castelgomberto, che per mancanza di spazi ha rimandato in prefettura i migranti che gli erano stati assegnati. Nella sua stessa condizione tanti altri sindaci del Vicentino, che non hanno le condizioni per fare accoglienza. Altri invece hanno già collocato i profughi ricevuti, ma non possono continuare all'infinito. Si pone insomma un tema che non è ancora stato risolto. Una risposta potrebbe arrivare dal famoso protocollo sottoscritto da Regione e Anci Veneto, l'Associazione Nazionale Comuni Italiani, che proporrebbe la soluzione dell'accoglienza diffusa, una formula condivisa sia da Mario Conte, sindaco di Treviso, che da quello di Vicenza, Giacomo Possamai. Siamo con Mario Conte, sindaco di Treviso, che è anche presidente del Lanci, per cui dei sindaci veneti. Entrambi abbiamo condiviso la volontà di evitare in ogni modo la presenza di hub, di tendopoli, di grandi concentrazioni di migranti nei centri urbani, in particolare, visto che siamo sindaci di Treviso e di Vicenza, ma in generale sul territorio. Tutti e due privilegiamo un sistema di ripartizione e di accoglienza diffusa per fare in modo che non ci siano grandi concentrazioni che mettono chiaramente in difficoltà sia sul fronte dell'organizzazione e sia su quello dell'integrazione. Il nuovo protocollo non è ancora stato rivelato. A quanto pare proporrebbe una cabina di regia tra Regione e Anci Veneto per coinvolgere più possibile i sindaci e per dargli voce nella gestione dell'accoglienza. Il protocollo è importante perché assegnerà un ruolo ai sindaci e gli darà la possibilità di partecipare alla discussione e all'organizzazione della presenza dei migranti sul territorio. È chiaro però che è anche un protocollo che responsabilizza tutti i sindaci, perché nel momento in cui si condivide una responsabilità con la prefettura, in questo caso è compito di tutti noi trovare gli spazi e fare in modo che la distribuzione sia omogenea sul territorio. Un protocollo che responsabilizza i sindaci, ma resta il tema degli arrivi. Se da quel gigantesco serbatoio che è l'Africa continueranno gli sbarchi, quanto reggerà il sistema dell'accoglienza diffusa? E quando finiranno gli spazi, cosa resterà da fare? Tornerà l'ipotesi delle tendopoli? E poi, ancora dopo? Terminiamo così con una domanda, perché questo fronte, quello dell'accoglienza, non ha ancora dato risposte definitive.